Prima di iniziare questo episodio vi ricordo che in descrizione trovate un link dove potete acquistare The Sims 4, le sue espansioni e un sacco di giochi per PC e con sal scontati, anche in pre-order. Utilizzando quel link voi risparmiate e allo stesso tempo date un contributo concreto al mio canale. Ciao a tutti, Dreamlike Moon vi da il benvenuto a un nuovo episodio della Nozzo Barry Challenge. Partiamo col botto perché dalla faccia di Darren si può già capire che cosa sta succedendo, dove siamo e perché. Eh sì, Marisol è entrata in travaglio dopo la tristezza delle ultime due puntate, degli ultimi due episodi, cominciamo finalmente con una bella notizia. Allora, a parte che il fatto che il medico sia un fantasma non è molto rassicurante, ma vabbè dettagli, a quanto pare i medici sono bravi comunque e anche alla reception sono fantasmi. C'è qualcuno che sia vivo in questo posto? Vabbè che ultimamente non c'è stata molta vita in questa famiglia, però stiamo per accoglierne una nuova. La quarta generazione, la generazione grigia, è in arrivo. Ah, potete sbrigarvi perché io non ce la faccio più. A parte che non ha un pancione enorme, però è anche molto magra Marisol. Darren, te ne stai lì imparato, è troppo sconvolto. No. Per favore posso entrare in sala parto così mi cavo questo pensiero? Pensiero, sì, poi ne avrò ben un altro di pensiero, un conto è tenerlo in pancia, un altro conto è doverlo allevare. Aiuto. Eh sì. Ce la facciamo ragazzi? O dobbiamo aspettare tutta la notte? Per favore? Potrei? Stiamo andando, stiamo andando. Beh, scusa, è lei che farà parturire mia moglie? Ma non si preoccupi, arriverà un medico molto molto bravo. Io sono infermiera, però se vuoi chiedere a me, può chiedere. Il medico è tale Emanuele Mancini, che è più di là che di qua, in tutti i sensi, però vabbè. Vai qui. Ah, grazie, grazie. Allora corro, in sala parto. Che poi, cioè, io l'ho mandato lì. Eh sì, infatti, andrà lì. Boh, le sim all'inizio mi partorivano tutte in questa stanza, da un certo punto in poi sono in questa stanza. E quindi godiamoci l'arrivo della quarta generazione con Darren che è stressatissimo, ancora più stressato di Marisol. Eh, lo so, tesoro, è un momento molto molto pieno di pathos. Questo, senza dubbio. Dove sei? Oh, guardateli che belli, uno con la faccia più bella dell'altro. Fantastico. E quindi via! Diamo il benvenuto alla nuova generazione. Siete curiosi? Sì, abbiamo scoperto che è medico, meno male che è medico. Oh, mamma mia, sono in ansia anch'io, ragazzi. Non riesco a spiegarvi quanto ho atteso questo momento. Perché c'è una cosa che Marisol non sa, non la sa neanche Darren, però io la so. e adesso speriamo che vada tutto bene. Tutto secondo i miei piani. E già penso che avrete intuito. C'è stato anche un piccolo spoiler nell'episodio quello precedente o forse quello prima. Qualcosa, un indizio piccolissimo che poteva farvi comprendere quello che sta accadendo sempre che vada tutto per i piani. Allora, abbiamo una femminuccia. Ovviamente questa legacy è destinata... Legacy challenge, però è una legacy di fatto perché si va avanti secondo le generazioni. È destinata ad avere matriarche, a quanto pare. Allora, quarta generazione. Generazione grigia. Io più che grigia voglio interpretarla anche un po' come grigio bianco. Perché il grigio non è che mi faccio impazzire come colore ed è davvero deprimente dover mettere tutto grigio in casa, bambini vestiti di grigio. È abbastanza deprimente, per cui io la considero sì grigia ma più tendente al bianco. Quando potrò sceglierò il bianco anziché il grigio. Per cui femminuccia di nome perla. Poi le perle possono anche essere grigie. Esistono le perle grigie. Per cui abbiamo perla quarta generazione. Perla Berry. Sì ragazzi, è un'altra. È un'altra anche. Un'altra femminuccia tra l'altro. Comunque sta andando tutto secondo i miei piani e Marisol mi ammazzerà. Sono sicura che mi odierà la morte. Seconda. La gemellina di perla è Alba. Alba intesa non come Aurora ma intesa come il colore bianco dal latino bianco insomma. Alba Berry. Ed ecco qua le nostre due piccoline. Ma ce n'è un'altra. Marisol mi uccide. Eh sì ragazzi perché quello che Marisol non sa e che non sa nemmeno Darren è che io ho preso a entrambi il tratto fertile e che ho cambiato i tratti dell'otto mettendo su una linea temporanea fertile. Temporanea. Temporale. E quindi questo è. D'altronde Marisol voleva una gravidanza. Una sola. Pochi figli. Ma Darren ne voleva tanti. Voleva una famiglia numerosa. E io ho accontentato entrambi. un po' meno Marisol. E quindi la terza ed ultima. Ed ultima. Si spera. A meno che l'MC Command Center non faccia i dispetti ma non credo. Crystal. Ebbene sì ragazzi abbiamo un parto trip gemino. Il primo che io abbia mai avuto penso su The Sims 4. E sono tre femmine. Cioè è pazzesco come questa legacy sia destinata ad andare avanti per una linea matriarcale. Il sesso non l'ho scelto io. Ma non ho scelto io nemmeno il numero di bambini. Ho solo controllato. Tutto lì. Eh sì triplo gioco. Ottieni un parto trigemino con un sim. Eh sì tesoro. Sei contenta. Da matti. Oh mio dio. Mi sa che sverrò. Eh sa anche a me tesoro che sverrai. Oh mio dio. Intanto ne prendo in braccio una. Non so se ce la farò prenderle in braccio tutte. Eh non lo so nemmeno io. Oddio. Davvero dottore sono tre. Davvero. Oh mio dio. È un sogno. Lei no. È un incubo Darren. È un incubo. No. Però anche il suo cuore duro si scioglie di fronte alla piccola. Lei chi è? Tra l'altro dovrebbe essere la prima? Perla. Esatto. Di fronte alla piccola perla. Oh. Che amore. Adesso avremo un bel da fare e senza i nonni sarà dura perché sono solo loro due. Sarà durissima. Aiuto. cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Vabbè. Allora andiamo a casa direi a conoscere un po' meglio queste tre bimbe. La generazione grigia. Ovviamente teletrasportate direttamente nella loro cameretta che ho messo al posto della camera di Ginko. Eh sì perché è ora di andare avanti di disfarsi dei mobili color menta e di arredare il tutto nei toni del grigio. Grigio bianco in questo caso come avevo già spiegato. Infatti le culle vabbè a parte che non c'era il grigio nel senso stretto. Le culle sono queste e ovviamente le ha scelte Darren perché non poteva che essere lui a prendere dei lettini da principesse per le sue tre principesse per l'appunto. Eh diciamo che sì alla fine avevano fatto un'ecografia e sapevano insomma che erano tre. Però ecco Marisol è rimasta sconvolta vedendo la conferma. Però sono carine. Adesso che dormono e non piangono. Guardate lui quant'è innamorato quant'è felice. Vieni qua stringi e e bacia. E bacia perché sì questo è un momento. Oh guardateli voglio prenderli tutti quanti tutta la famiglia. È un momento di pura felicità per il nostro Darren. E ovviamente no adesso non ce ne frega niente. Beh speriamo di riuscire a cavarcela. Sono un po' tesa. È un po' tesa tesoro. Mi sa che non ha ancora capito bene cosa è successo. Comunque giusto per dimostrarvi. Urca crescerà tra due giorni lui. Come passa il tempo. Per dimostrarvi fertile. Fertile anche lei. E in più il tratto del lotto che è stato il colpo di grazia. E io direi che per ora possiamo anche togliere questo e mettere qualsiasi altra cosa. Ok penso che ci siamo internet veloce il covo scientifico e mettiamo non ne ho idea ci penserò ragazzi ci penserò e quindi ecco qua le nostre tre piccoline. C'è una cosa ancora da fare ovvero tutina per neonati bitonale grigia. Vediamo se possiamo metterlo a tutte. Vesti il neonato con una tutina. Compra un giocattolo e ti pareva per essere un amante della famiglia. Benissimo vediamo se si può. No non si può più. Ne serve cioè bisogna averne tre per l'appunto. Peccato. Comunque questa è crystal, alba e perla. Perfetto. Benissimo. Rimuovi la tutina facciamo una cosa un po' più. Però che carino queste tutine. Ci voleva eh ragazzi ci voleva. E vorrei che fosse una cosa anche nel gioco di base non solo con il pack del faramaglia. la rimuoviamo a lei e per fare una cosa ehm equilibrata la mettiamo a quella al centro. Va bene Darren basta perché hai veramente sonno e tu domani credo che debba andare a lavorare. Eh infatti fra sei ore. Quindi riposati, dormi, tu lavori domani? No. Per cui dormi. E quindi sì si prenderà cura lei delle bambine. Che bello che gioia ehm. Comunque qua il pupazzino che aveva fatto Maris e Marison scusate Rossana. E poi ho messo tutti gli oggettini di Rossana Urca. Cominciamo bene. Ho messo tutti gli oggettini di Rossana qua insomma. Va bene. Cominciamo. Hanno tutte molta fame. Per cui nutri a latta. Vabbè che tu vai al lavoro tra cinque ore. Vabbè sei messo bene. Per cui nutri con il biberon. Così ce la caviamo prima. Forse si spera. E perla che sta nutrendo lei forse deve anche ehm ricevere un cambio pannolino. Ecco che anche lei comincia a piangere. Allora cambia il pannolino sporco. E poi allatta. Certo non ce la vedevo Marisol ad allattare. Però è pur sempre mamma adesso no? Per cui forse il suo cuoricino duro sia un attimo sciolto. Beh ci ha messo di meno d'arren col biberon che Marisol con l'allattamento. Allora cambia il pannolino sporco. Attendo anche te Alba eh. Vediamo se anche tu te la fai addosso da un momento all'altro. 3 2 1. 3 2 1. No. Niente. Allora vai a dormire. Mamma mia sono in ansia. In ansia totale. 3 3 e abbiamo solo due adulti. Come faremo? La cacca è in agguato me lo sento Alba. Me lo sento tantissimo. Marisol cerca di accelerare un po' i tempi eh perché cosa stai facendo? vabbè vai in bagno e vabbè poi dormi. E so che appena toccherà il letto Alba farà la cacca. Sicuro? Sicuro come loro? Ecco ti pareva ore 8 e 25 Alba ha fatto la cacca. Cambia il pannolino. Marisol resterà anche a casa da sola. Sarà un inferno gestirle. Comunque spero che la cameretta vi piaccia. E finalmente sono felici. A parte che lei ha fame. Senti fai così vai a fare colazione perché più tardi temo che ci sarà il delirio. Per cui apri prenditi questo. Prendi una porzione. Mangia finché hai tempo. No! Lo spirito di Adakai sta svanendo. No! Vabbè non possiamo tenercelo per sempre. Ragazzi. È normale purtroppo. Mi sono dimenticata l'ultima volta che siamo andati insomma nell'ultimo episodio quando abbiamo fatto il funerale di... Com'è che si dice? Di rafforzare la connessione col mondo fisico. Tra un'ora? Darren sei pronto? Da matti. Stanco ancora ma vabbè non possiamo farci niente. E temo che mangerai al lavoro. O non mangerai affatto. Rido per non piangere. Vabbè dai Marisol sei felice. Felice più tre. Per due giorni. Per fortuna. Mi sa che chiamo qualcuno dei miei cugini per farmi dare una mano. Guarda se vuoi chiamare Zio Crimson tanto lui è sempre libro a quanto pare. Non fa mai una cippa per cui puoi anche chiamare lui. Chiacchiera con Marisol. Ma davvero? Ma se fossi in te guarda ne approfitterei per mangiare. Fai un pasto veloce. Prendiamoci dei cereali. Prendiamoci dei cereali. Anzi. Prendiamoci biscotti a forma di animali. E tu approfittane per andare a dormire. Anzi potresti approfittarne per aggiornare aumento di energia. Sì direi che è il caso. Comandi dei massaggi. Perché nonostante tutto. Nonostante le tre gemelle. Dobbiamo andare avanti con la manualità. Siamo a livello 8. Anche con la missilistica. Livello 8? Ve l'avevo detto. Non lo so. Non mi ricordo ragazzi. Se ve l'avevo detto o meno. E anche la logica. Chi è? Congratulazioni per il nuovo arrivo nella famiglia. Oh grazie Ginko. Che dall'aldilà ci hai chiamato per congratularsi. Congratularti per l'arrivo in famiglia. Eh sì. Perché Ginko sa che ci sono le sue pronipotine che portano avanti i suoi geni. Più o meno. E comunque la sua challenge alla fine. Sono le sue eredi. Grazie Ginko. Grazie nonna. E quindi sì. Vediamo quando scoppierà il finimondo. Per ora le cose sembrano tranquille. Ok sappiamo già che Alba è la più dispettosa. Perché fa la cacca in ritardo. Cioè quando i genitori dormono. E poi rompe le scatole quando non deve. Perché si è messa a piangere. Le altre due erano tranquille fino. Cioè sono state tranquille. Hanno pianto solo per il cibo e la cacca. Lei invece ha pianto così. Senza motivo. Per cui abbiamo già inquadrato Alba. Uh livello 2 di genitorialità. Bene. Molto bene. Fai una faccia buffa dei versetti. Secondo me ti manda a quel paese. Però cerca di fare una faccia buffa. Magari le piace la cosa. Vediamo come la prende. Eh si è divertita. Che c'è? Eccola. Eccola. Calma. Bene. Si parte. Olè. Calma. Poi vieni qua. Fai dei versetti. Dondola. Cerchiamo di tenerle un po' buone. Perché Marisol deve finire di aggiornare il letto. Ovviamente si sono messe a piangere quando lei lo stava facendo. Stai lavorando sodo? Sì. Bravo. Molto bene. A parte che non servirebbe nemmeno. Perché tanto. Senti fai così. Per non tornare a casa distrutto. Lavora normalmente. Tanto la promozione non la prendi a questo giro di sicuro. E di sicuro non finché non raggiungiamo il livello 9 di programmazione. E comunque. E comunque. Lui ha creato un'app per la quale sta anche ricevendo dei diritti d'autore. E quindi siamo all'ultimo step della sua aspirazione. Quindi una volta che avrà trascorso 100 ore il computer possiamo anche salutare questa aspirazione. E di conseguenza è la carriera di mago dei computer. Volendo eh. Altrimenti può andare avanti. Perché se vedete il rapporto sui diritti d'autore. Ha creato l'app Meteo di Sixam. Forse. Perché non è tanto sicuro. Però l'ha fatto in onore di Marisol diciamo. Che carino. E' soprattutto carino Darren. E sì. Noi dobbiamo raggiungere il livello 10 di logica. No 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 no. Ricominciamo con questa storia dell'acqua. Riprendi i comandi del massaggio. Finché sono tranquille. Le lasciamo dormire. E Marisol si occupa un po' delle sue cose. Magari potresti anche dormire un po'. Perché non si sa mai quando la situazione. Precipiterà di nuovo. Però. Per intanto i parenti non si sono visti. Strano. Ma aspettavo che Crimson si fiondasse qui in tempo zero. E invece no. Il capo di Darren gli offre l'opportunità di un corso di formazione supplementare. Cosa deve fare Darren? Beh lui ovviamente segue il corso di formazione. Scherziamo. Non dà l'opportunità a un collega. A aumento del rendimento medio Darren approfitta del corso di formazione proposto. e rispolvera alcune importanti doti lavorative. Quando piangono tutte e tre vorrei piangere anch'io. Oh santo cielo. Chi è che ha il pannolino? Solo tu. Avranno fame tutte. Per cui nutri. Biberon. Nutri. Biberon. Mamma mia. Nutri. Biberon. Aiuto. Non la invidio per niente. Ma ecco papà Darren che è giunto. È sempre qua? Sei giunto a far cosa? Preparare del tè. No a rompere la macchina del tè. Ho detto Darren. Sicuramente ho detto Darren. Papà Damien. E poi a buttarsi in piscina. Scusa ma non volevi vedere le tue nipoti magari? Forse no eh. Ecco un'altra con il pannolino. Allora facciamo così. Cambia il pannolino sporco. Nutri con il Biberon. Livello 3 di genitorialità. Perfetto. Chi è la prossima? E senti però Damien. Io capisco tutto. Mai Sulani. Hai un'intera isola per fare queste cose. Aggiunge il gruppo. Tra l'altro lui non avrebbe nemmeno le chiavi della residenza. Però è entrato così comunque. Vabbè che gliele aveva date Rossana. Quel di Rossana. Marisol. No Marisol non gliele ha date. Vabbè chiunque sia stato. Lui ha le chiavi della residenza a quanto pare. Per cui potremmo venire qui tutti insieme. Vai qui insieme. No 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 scherzavo. Perché adesso c'è anche Alba. Ovviamente che ha problemi. Dondola. È la più scatenata Alba. Ve l'ho detto. È una cosa pazzesca. Oh benissimo. È tornato Darren. Ottimo. Aggiunge il gruppo. È stato Darren a dargli le chiavi. Va bene. E direi che vai qui insieme. Perché cioè dobbiamo presentare le bambine al nonno. Che ne dite? Direi che è un'ottima idea. No? Se no per quale altro motivo sarebbe venuto qua. Vero Damien? Per farti una nuotata? Direi proprio di no. Qua ci penso io ragazzi. Non preoccupatevi. Ma Damien cosa ha deciso di fare? Di uscire dalla piscina. Per ora. Allora fai così. Fai vedere a Damien. Ciao tesoro. È andato tutto bene? Ma insomma. Però quantomeno ha dormito dai. Allora vieni qua. Valuta le mosse. Gioca. Divertiti un attimo. Si sa mai che arriviamo anche a livello 10 di logica. Non sarebbe male. Anch'io ho bisogno di divertirmi. Però per ora farò vedere le bambine a mio suocero. Se il suocero si degna. Perché io non so eh. No. Sta andando da Marisol. Perfetto. Riproviamo. Fai vedere a Damien. Ah non può perché la porta è chiusa. Sblocca. Fai vedere a Damien. Ancora no? Cos'è che ti turba? La porta non è più bloccata. Sappilo. Fai vedere a Damien. No non può. Vabbè allora arrangiati. Allora lui tornato a casa ovviamente si spupazzerà le sue bambine. Per cui fai una faccia buffa. Vediamo come la prende. Perla. Lei è la più terribile ma anche quella con il senso dell'umorismo più sviluppato. L'ha presa bene? Direi di sì. E fai una faccia buffa. E fai dei versetti a lei. Ho raggiunto il livello 2 di genitorialità anche per lui. Molto bene. Beh sono così contento di essere diventato nonno. Sì però non sei andato a vedere le bambine. Papà mi fa piacere che tu sia qui. Avrò bisogno di te in questi giorni, in questo periodo. Ma certo sarà qua per aiutarti. Tipo come effetto prima, cioè rompere la macchina del tè. Benissimo, perfetto. Proprio l'aiuto di cui avevamo bisogno. Sì questa è bella papà. Hai già finito? No no no. Senti tu devi divertirti assolutamente. Per cui vieni qua. Volevi guardare cosa? Rete cultura mondiale. Perfetto. Guarda Rete cultura mondiale. E là hai un minuto per aiutarmi con alcuni oggetti riciclabili? Ho saputo che è un depuratore e se me lo lasciassi usare ti darei gratis tutti i pezzi di frammenti e i frammenti che produce. Che ne dici? Va bene. Invita a entrare. Lascia stare un attimo gli scacchi. Invitiamolo a entrare. Perché è una bella cosa insomma. Sì sì. Certo. Ma cosa fai? Ma perché? Sa sono molto malata e non posso uscire. Per cui venga pure a riciclare. Mi farà molto comodo avere queste parti riciclate. Ma Marisol! Ma cosa? Ma perché? Ma dai! Ma cosa ti è venuto in mente? Mettiti questo piuttosto. Ma santo cielo. Ma perché? È andata fuori di testa questa donna. Allora vai a ripararmi questo. E poi gioca con tuo papà. E io direi che ci fermiamo qua per questo episodio. Perché sono già stanca. A dire il vero. Prendersi cura delle tre giumelle è pazzesco. Comunque spero che questo episodio vi sia piaciuto. Stiamo vedendo Marisol affrontare una situazione che di certo non si aspettava. E ditemi cosa ne pensate. Perché sono molto molto curiosa di sapere la vostra. E quindi. Se l'episodio vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. Vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutte le mie serie. Trovate i link ai social. Ai canali dei miei amici youtuber. Trovate anche il link al mio secondo canale. Alla mia affiliazione Instant Gaming. E vi ricordo. Che è in uscita in questi giorni. Il mio primo romanzo. Vi invito quindi a seguire anche la mia pagina Instagram. Dedicata alla scrittura. Trovate tutti i link sempre in descrizione. Per cui detto questo vi ringrazio tantissimo. Per la vostra attenzione. Noi ci vediamo alla prossima. E vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.